Eh, con che personaggio cominciare? Con Salvador, detto anche il Gunzerker? Oppure con Axton, il commando? Ma volete mettere il fascino di Zero l'assassino? Beh, ma anche la bellissima Maia di fascino ne ha da vendere. E la simpatia di questa rediviva Pippi Calzelunghe? Gage la Micromante? O provare a vivere come un fuori di testa, come Kriglo Psyko? I prim 4 sono i personaggi originali del gioco. Successivamente, con un DLC gratuito, la Gearbox ha reso disponibile Gage la Micromancer. E infine, per ultimo, siamo ormai a maggio del 2013, Kriglo Psyko, che non è gratuito, neanche perché ha il Season Pass, costa 800 Microsoft Points, quindi circa 10€. Sarei un po' presuntuoso a dirvi, questo è quello che fa per voi, questo è il miglior personaggio. Posso solo dire che probabilmente il personaggio con cui è più facile giocare nella maggior parte delle situazioni, cioè che è difficile che venga bloccato da qualche boss o raid boss, è forse Salvador, grazie alla sua caratteristica di poter imbracciare con la sua abilità speciale due armi per volte, quindi enorme distruzione, può rigenerare i proiettili, soprattutto se indossa un mod che aumenta la velocità di rigenerazione dei proiettili, ed è anche una bestia di rigenerazione dell'energia. Quindi, fate i vostri conti, è una specie di tank, di carro armato, per cui mediamente aiuta parecchio nelle varie situazioni. Però la lunga potrebbe diventare un po' noioso, in effetti io mi ritrovo con un Salvador super pompato, intanto diamo un'occhiata al suo albero delle abilità, poi vi spiego meglio che cosa sia, e non dico che passeggi per i livelli ormai, ma quasi. Per scegliere bene il personaggio bisogna prima informarsi, appunto, sulle sue caratteristiche, almeno quelle principali, e prendersi poi un po' di tempo a studiare il loro albero delle abilità, quello che avete di fronte agli occhi in questo momento. Sicuramente tutti saprete che lo si può far apparire premendo il tasto back indietro del controller, e ciclando poi tra le 4-5 schermate che ci sono, usando i pulsanti arrotondati dorsali, destra e sinistra, quelli sopra i grilletti per sparare, insomma. A partire dal quinto livello, infatti immagino che pure saprete, perché si inizia veramente presto, che man mano che si guadagnano punti esperienza, i punti XP, uccidendo o completando le missioni, ogni tanto, e sempre con maggiore sforzo, progressivamente, si sale di un livello che è uno dei meccanismi fondamentali del gioco, il level up. Dicevo, dal quinto livello in poi, ad ogni nuovo livello si guadagna un cosiddetto punto abilità. Giocando in modalità vero cacciatore, TVHM, potete guadagnarne al massimo 46, il 46esimo lo ottenete infatti quando entrate al livello 50. Entrando in partita in modalità cacciatore definitivo, potrete guadagnarne altri 11, corrispondente al nuovo level cap, cioè livello massimo che si può raggiungere, che è appunto il 61. Ogni punticino guadagnato, eccetto il primo, questo vale per tutte le classi di personaggi, che serve a sbloccare questi tre quadri, ve lo potete giocare come punto abilità potenziando una delle abilità che sono qui elencate. Adesso io sto sfruttando, perché sto registrando sotto PC, mentre il game lo potrei utilizzare solo su Xbox. Dicevo, lo sto controllando dal sito bl2skills.com, che offre questo quadro interattivo, che permette di fare un po' di sperimenti, anche senza avere guadagnato magari i 40 punti, vedere cosa potreste ottenere con 40 punti abilità. Anche se in realtà sul vostro game ne avete soltanto una decina. Come potete bene immaginare, le più potenti, le più estreme, di solito, sono quelle che sono qui in fondo. E la build, cioè la costruzione intelligente del personaggio, passa proprio per delle scelte. In base al tipo di potenziamento, non so, volete massimizzare la salute o volete massimizzare il danno? Dipende dall'avversario che di volta in volta, sto parlando però di boss o raid boss, perché i problemi di solito con i personaggi nemici normali non ce ne sono. La build va pensata accuratamente, soprattutto quando si va a combattere contro un raid boss. Tra parentesi, le missioni secondarie di solito hanno un mini boss da affrontare, non un granché. Le missioni principali non raramente invece terminano con un boss di un certo livello. E lì, soprattutto agli inizi, già siamo di fronte a una sfida non da poco. Poi Gearbox ha pensato delle vere e proprie maledizioni, ma anche delle delizie, quando poi si riesce con tempo, tempo, tempo e fatica a farli fuori, i raid boss. Sono super boss e la Gearbox li ha pensati, in realtà, per affrontarli in co-op, quindi insieme online o in rete, rete locale. Ma l'inventiva e le combinazioni inaspettate di abilità, armi, mod, eccetera, hanno sempre fatto trovare al popolo dei giocatori dei modi per combattere e sconfiggere in solitario anche i raid boss. E qui, non è che il Ganserker sia assolutamente l'avvantaggiato, tutt'altro, perché scopriamo, ad esempio, con Iperius che Zero può far fuori, in pochi decine di secondi, se non in pochi secondi, questo raid boss, mentre il Ganserker se lo deve sudare un po' di più. Ma la forza della build è anche pensarla in base ai mod di classe, ai modificatori di classe, cioè dei potenziamenti diversificati per classi giocatore, perché ovviamente diverse sono le abilità, e che indossati vi regalano dei punti aggiuntivi oltre ai 46 del livello 50 massimo o ai 57 del livello 61. E qui si possono ottenere a volte delle cose veramente eclatanti e incredibili. E non basta! C'è interazione negativa o positiva anche con le armi e anche con gli scudi. Recentemente ho pubblicato un video sul Rough Rider, è uno scudo che ha capienza a zero, sembra inutile, eppure ci sono alcune abilità che scattano quando lo scudo viene abbattuto a zero come capienza. Dopodiché c'è un periodo di ricarica, anzi di ritardo di ricarica, per cui lo scudo rimane a zero. Ecco, alcune abilità anche potenti scattano mentre lo scudo è a zero. Eh, ma se tu trovi questo scudo la cui condizione normale, naturale di essere sempre a zero, è ovvio che tu avrai queste abilità sempre attive. Questo scatena ad esempio uno degli albi di abilità di Cricklop Psycho, trasformandolo in una vera furia divina. Anzi, furia infernale. Dopo queste informazioni che valgono un po' per tutti i personaggi, vediamo di finire questo video con qualche informazione invece più specifiche per ciascuno di loro. Beh, Salvador non è fatto certo per il gioco stealth, oddio, potreste anche farlo, però fa un po' ridere. È fatto un po' per buttarsi nella mischia, grazie alla sua potente abilità che gli consente di ganzercare come spiegavo prima. Le sue abilità possono esaltare le pistole, penso in primis, come prima scelta, ma anche gli sciottica. E comunque, come ogni personaggio, può tranquillamente usare anche il fucile da cecchino. Solo che un personaggio specifico per il cecchinaggio come zero ha delle abilità che possono, ad esempio, portare alle stelle il danno fatto con un fucile da cecchino. Così come accade per le pistole e Salvador. Ma anche con un buon paio di fucili d'assalto e quindi a miglioraggio, Salvador è veramente femminile. Come dicevo, uno di quelli che sa meglio adattarsi alle varie situazioni. Axton è un ex militare della DAL ed è diventato poi, a causa della sua intemperanza, un mercenario. L'abilità d'azione del commando è quella di poter lanciare sul terreno di battaglia una torretta automatica. E, avendo abbastanza punti e abilità, addirittura due. Non sorprende quindi che molte delle abilità del commando servono proprio a potenziare la torretta stessa. La torretta è molto utile anche per difendersi perché eleva uno scudo impenetrabile a quasi tutto. E questo vale anche per gli amici, che possono avvantaggiarsi della presenza di un commando. In generale, Axton è abile nel combattimento a medio raggio. E con la torretta Axton può fare una cosa che invece il Gunzerker potrebbe fare soltanto con quelle pistole che possono sparare anche di rimbalzo sui muri o sui soffitti o sul pavimento. E cioè, potendo stare nascosto, lancia periodicamente la torretta, potendo uccidere e rimanendo al sicuro. Per quanto riguarda le armi che meglio si adattano a Axton, qui chiedo aiuto agli altri giocatori abbastanza esperti, o molto esperti, che so che seguono comunque questi video, di dirle a loro e di suggerire ai principianti quali sono le migliori armi per questo personaggio. E la stessa cosa anche per gli altri, perché io, onestamente, conosco abbastanza bene solo Salvador. Beh, qualche cosetta però lascio leggere anch'io qua e là, quindi almeno vi dico che uno dei tipi di arma preferita è sicuramente il fucile d'assalto. Altre armi preferite sono sicuramente i lanciarazzi e le granate. Il fascinoso Zero mette insieme due abilità contrastanti. Il colpire micidiale dalla distanza col fucile da cecchino, che è sicuramente l'arma, una delle armi preferite, ma anche il combattimento corpo a corpo alla ninja, per intenderci. In più, quando colpisce dalla distanza col fucile da cecchino, può potenziare in modo incredibile, con alcune abilità, il danno critico, fino a livelli veramente micidiali. Beh, insomma, non a caso, l'albero di sinistra, quello verde, è praticamente tutto esclusivamente dedicato al cecchinaggio. E quello di destra, quello rosso, tutto dedicato in pratica al combattimento corpo a corpo. L'abilità d'azione di Zero è Sparire, quindi per alcuni secondi diventerete invisibili e un vostro hologramma distrarrà e trarrà in inganno il nemico. E voi avrete la possibilità di martellarlo, oltretutto con delle abilità che sotto inganno avranno un danno assai potenziato. E lo Sparire dalla scena offre delle soluzioni tattiche veramente interessanti, inaspettate volte. Molti di voi, anche ragazze che so che giocano e che spesso utilizzano Maya, avrebbero voluto contraddirmi quando all'inizio ho detto che probabilmente il Gunzerker è la miglior classe per giocare in solo. Perché Maya è una formidabile concorrente per questo podio. A parte la sua ineguagliabile capacità di curare gli altri, la sua abilità d'azione, il blocco di fase, intrappola infatti i nemici, boss compresi, all'interno di una bolla che li intrappola, li paralizza e moltiplica il danno che questi ricevono. Inoltre quando i nemici sono in blocco di fase, lei può colpire con più facilità i colpi critici, rendendo più efficace la sua azione. Il ramo dell'abilità di sinistra serve soprattutto a potenziare l'efficacia, in effetti, del phase lock, il blocco di fase. Terminato con Maya, finisco anche questo video. E mi lascio le ultime due classi, il Micromancer e Krieg, per il prossimo video. A risentirci. Grazie. 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 Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. No, di voi deve andarcene. Ah. Eh. No, di voi deve andarcene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.